Chiedono di essere stabilizzati i 41 precari della Camera di Commercio che si sono ritrovati in assemblea sindacale unitamente agli altri enti camerali di Trapani ed Agrigento. Una situazione in bilico, quella dei precari contrattualizzati nel 2001, che dopo 26 anni di incertezze chiedono risposte concrete sul loro futuro legato anche all'accorpamento con Trapani e Agrigento previsto nel decreto attuativo della legge 124 del 2015. Un'assemblea per far luce sul piano delle stabilizzazioni predisposto dell'ente e stabilire le eventuali azioni sindacali d'attuale per rimendicare i diritti dei lavoratori. Oggi abbiamo convocato un'assemblea dei lavoratori giusto a loro richiesta della settimana scorsa perché sono sinceramente preoccupati del destino occupazionale che li aspetta. Non sanno come verranno accorpate le Camere di Commercio, in quali termini e modalità. Quindi non sappiamo questo personale che fine farà. A livello confederale le organizzazioni sindacali della CISO, della CGL e della UIL hanno indetto una manifestazione nazionale per il 29 settembre che si terrà a Roma e che contesta il decreto attuativo della legge 124 del 2015 su riordino delle Camere di Commercio. Ci troviamo di fronte, sembra, all'ennesimo decreto di riordino che sulle spalle del personale e dei servizi opera all'insegna di una riduzione della spesa. Dobbiamo considerare e sottolineare l'importanza delle Camere di Commercio nel territorio, non solo a livello occupazionale ma anche per i servizi che offre alle imprese. Ad oggi ancora non abbiamo contezza di quale sia il programma triennale delle Camere di Commercio. Noi avevamo già, diciamo, che eravamo nelle condizioni di sapere notizie da parte dell'amministrazione, in quanto c'era una legge dove bloccava i prepensionamenti riguardo alle Camere di Commercio. Questo punto, diciamo, è già stato passato abbondantemente, quindi anche loro possono entrare nel prepensionamento. Quindi ad oggi ancora noi non abbiamo contezza, quindi noi dobbiamo far rilevare una cosa, che i precari sono a 24 ore e i dipendenti che escono sono a 36 ore. Quindi già lì possiamo fare i calcoli che ogni tot di personale che esce ne possono sistemare quasi il doppio.